Buon pomeriggio Mamma mia C'ho un dolore al petto che mi fa troppo male Che è sto schifo? A che punto siamo arrivati? A che punto siamo arrivati? A perdere sta maniera? Pure il sassuolo gli ha regalato pure tre punti a uno Ma se può fare così? Una squadra scandalosa Una squadra che pare una squadra di serie B E ho visto pure Che gente che ancora dice Che la tifoseria, che la curva non doveva lasciare La curva per sostenere sti undici mongoloidi Figli di puttana Mercenari di merda Non c'è ne uno degno dentro a quella squadra Uno, uno Anzi no, uno c'è Gabigol Appena entrato ha fatto il fuoco E l'altro? Fate pietà Ritiratevi Ammazzatevi Sparatevi Dateva a fuoco Buttate la via a sta maglia Non è più per voi Suning Fa' una bella cosa Butta via tutto Butta via tutto Tutto Questi non vargono il prezzo De un euro Questi vengono chiappati uno per uno E pesi a cazzino il culo Fate vomitare Fate schifo State rovinando una squadra Un colore Una tradizione Una tradizione Azzanetti Do cazzo stai pure te Parla Sei il vicepresidente Parla Qualcuno ci faccia capire Sta squadra che cazzo è Perché oggi ho capito Che non c'è una squadra Ma c'è una merda Fate schifo Ritiratevi Buttatevi alla maglia E all'ultimo due partite Fate giocare i ragazzini Che probabilmente Vincemo qualcosa Merde Ciao E buona domenica